Open Day davvero eccezionale con tanto movimento, tanta musica, tanta energia, tanta voglia di affrontare questa stagione 2022-2023 all'insegna delle attività del fitness, all'insegna del divertimento. Assolutamente sì, ci siamo divertiti, abbiamo visto anche tanti visi nuovi oggi che sono venuti qui a provare con noi che non ci conoscevano assolutamente e oggi hanno ovviamente avuto un piccolo assaggio delle cose che quotidianamente facciamo, quindi comunque tutte le nostre attività sia di tarra che di acqua sono assolutamente da scoprire. L'emozione che comunque anche i clienti ci regalano è quello che rende di questo lavoro la cosa più bella e ormai comunque non è più un lavoro ma è una grande passione. Stiamo ovviamente formando anche delle giovani eleve proprio per continuare a divertirci insieme all'insegna ovviamente della qualità, della professionalità perché ovviamente sì ci divertiamo ma il livello è veramente, veramente alto sia di terra che di acqua. Abbiamo dato un assaggio molto veloce di tre attività, una di danza, una classica di circuito e una di fitbox a persone che non avevano mai praticato queste discipline, si sono divertite, hanno lavorato bene, con entusiasmo e ci aspettano qui per poter approfondire questa attività insieme. Tanta energia insomma questi corsi poi permettono anche di sviluppare in maniera armoniosa il proprio corpo e di avere dei benefici importanti. Sì benefici importanti sia dal punto della tonificazione sia dal punto di vista del miglioramento delle capacità cardio circolatorie e sia quelle legate alla resistenza. E come risponde la gente? Risponde con entusiasmo, ha voglia di muoversi, forse anche dopo un periodo che abbiamo vissuto un po' reclusi, un po' spaventati di tante dinamiche, c'è un po' voglia adesso di rimettersi in gioco e fare attività.